Il primo atelier che ascolteremo oggi vota il titolo Contrasti e sfumature e in questo caso questo atelier ha esplorato i contrasti e le sfumature di timbri marcati, di ritmi irregolari che fanno parte della tradizione balcanica e anche della tradizione del nord Europa. A condurli in questo viaggio a guidarli c'è stata Rachela Turic e in fondo questo atelier è un po' la sua storia, lei è una docente slovena che adesso vive a Graz, è un po' sospesa al centro dell'Europa tra tradizioni diverse, lei si occupa molto anche di educazione musicale presso le scuole che hanno molti bambini che arrivano da paesi stranieri, anche la musica aiuta moltissimo l'integrazione e Rachela si occupa molto proprio di questo tipo di problematiche e la musica corale unisce, voi siete tantissimi, ballerete, canterete con Rachela Turic e con brani della tradizione bosniaca, macedone e poi con una passeggiata anche al nord in Finlandia e anche con la tradizione lacone dello joik, contrasti e sfumature. Grazie. 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 Grazie.